Benissimo ragazzi, oggi ci occuperemo di risolvere un'espressione con le frazioni utilizzando un programma di coding chiamato Scratch. Per effettuare la registrazione uso sempre il programma Mimio Studio. Qui inseriamo l'uguale, che è uguale a 4.39 dopo aver fatto i conti. Adesso andiamo ad aprire, riduciamo l'icona e apriamo il programma Scratch. Questo è un programma per il calcolo computazionale. Allora, descriviamo un attimino questo programma. In alto a sinistra abbiamo questo sprite, che si può cambiare, può essere una penna, può essere qualcos'altro, che eseguirà le istruzioni che noi andremo a inserire nella parte destra del nostro programma. Vedete, qui nella parte centrale ci sono tutta una serie di menu che ci consentono di inserire le istruzioni, le istruzioni per costruire questo algoritmo, questo procedimento, che ci porterà alla risoluzione della nostra espressione. C'è movimento, c'è aspetto, c'è suono, è possibile introdurre dei suoni, è possibile utilizzare le penne, è possibile utilizzare e creare delle variabili XY, delle particolari situazioni, questi sono altri menu di controllo in base alla ripetizione, reiterazioni di determinate operazioni, questo è il menu dei sensori, questo è il menu degli operatori, questo che utilizzeremo a breve appunto per risolvere la nostra espressione. Allora, nella nostra espressione, come vedremo, è un po' per risolverla, inserire le operazioni un po' a ritroso, cominciando dall'ultima operazione che poi è quella del diviso, che separa la somma delle due frazioni dalla differenza. Allora, andiamo intanto a utilizzare l'operatore quando si clicca su, questa informazione ci consentirà di far partire l'algoritmo cliccando qui nella parte in alto a sinistra sulla bandierina. Poi, siccome dovrà pensare appunto alla procedura, il nostro sprite, inseriremo un aspetto, per esempio dovrà prima pensare per capire qual è la precedenza delle operazioni, lo facciamo pensare per 5 secondi e poi ci darà la risposta. A questo punto la risposta verrà fuori dalle operazioni che noi diremo di fare al sistema no? E quindi andiamo ad operatori, andiamo ad operatori, e anzi utilizziamo prima, ecco, dire, questo blocco all'interno di dire, perché alla fine il nostro sprite doveva dirci il risultato, andiamo ad utilizzare i nostri operatori abbiamo detto il primo da utilizzare è questo qui, è il diviso, sarebbe quel diviso che separa le due parentesi in pratica. All'interno adesso, al numeratore di questa frazione, diciamo, dobbiamo inserire la somma delle due frazioni quindi inseriremo prima la somma, eccola qui, vedete, quando mi avvicino si illumina un attimino il cerchio quando si illumina io inserisco. Benissimo, adesso all'interno di questo cerchietto dovrò iniziare a durare la frazione e all'interno di quest'altro la seconda frazione, 5 settimi prendo la prima frazione e la inserisco qui, vedete, mi avvicino si illumina prendo la seconda frazione e mi avvicino sul secondo qui e si illumina, vedete qui inserirò 1, qui inserirò il 5, adesso qui inserirò il 5 e qui inserirò il 7 e la prima parte è sistemata. Passiamo appunto alla parte dopo il diviso che sarebbe poi la linea di frazione, abbiamo detto. Adesso dobbiamo introdurre anche qui prima la differenza e la mettiamo qui e poi qui dentro un'altra divisione che sarebbe la frazione la frazione 7 ottavi e qui la frazione 2 terzi e quindi andiamo a mettere i numeri 7, 8, 8 e poi qui, che è successo? 7 ottavi, è successo qualcosa, dobbiamo un attimino rifacciamo un attimo la procedura perché mi sono leggermente incasinato, qui doveva comparire abbiamo detto la differenza, eccola qua, la rimettiamo, adesso introduciamo la frazione scusatemi ma ho sbagliato, anche i grandi sbagliano, introduco la seconda frazione, la scrivo abbiamo detto, e sono 7 ottavi, meno 2, 2, 2, 2, 3, ok. A questo punto la nostra espressione è stata costruita, adesso per verificare vedremo se il nostro sprite ci darà il risultato esatto, cliccando sulla bandierina, penserà prima per 5 secondi, dopodiché ci darà il risultato in base alle precedenze che noi abbiamo inserito appunto nella risoluzione della nostra espressione andiamo a vedere, ci avviciniamo alla bandierina, clicchiamo, ecco qui che sta pensando, dovrebbe comparire il risultato 4,39 come avevamo previsto, quindi ragazzi utilizzare Scratch è in pratica anche un po' un vantaggio per anche verificare magari la correttezza delle nostre operazioni, quello che noi abbiamo seguito su Foglio. Quindi ci vediamo alla prossima, vi saluto!